Le voci parlano di irregolarità veniali. Non dovrebbero esserci vizi insanabili per la lista Realtà Italia che appoggia la candidatura a sindaco di Antonio Battista al comune di Campobasso. Oggi al pian terreno di Palazzo San Giorgio la Commissione elettorale ha esaminato nel dettaglio le irregolarità segnalate al momento della presentazione dei candidati e i documenti aggiuntivi prodotti dai rappresentanti di Realtà Italia. I componenti dell'ufficio hanno comunicato che renderanno note le decisioni prima delle 17 di oggi pomeriggio. Stesso discorso per i cinque candidati esclusi da altre tante liste, tutte di area centro-sinistra. Alle 17 infatti avverrà il sorteggio dei simboli e da questo la composizione della scheda elettorale che i cittadini troveranno nell'urna il 25 maggio. I candidati alla carica di sindaco sono stati tutti ammessi, dunque l'uscente Gino Di Bartolomeo, candidato di Forza Italia, troverà gli aspiranti Antonio Battista, leader dell'opposizione nella legislatura che finisce, Michele Scasserra, candidato dallo schieramento Polo Civico, che aggrega appunto civiche e esponenti del nuovo centro-destra, Roberto Gravina, scelto dal Movimento 5 Stelle e Pino Saluppo, anche lui alla guida di una civica. Il sorteggio stabilirà l'esatta collocazione dei cinque candidati e delle liste che li sostengono sulla scheda elettorale. Resta sempre il ricorso al TAR in caso di esito negativo della commissione elettorale, ma in questo caso il tempo si allunga inevitabilmente a comizi elettorali già indetti. Rispetto alla vigilia, ed è questo un dato in controtendenza, non ci sono candidate donne per la carica di sindaco. Si potrà però votare con una doppia preferenza nella stessa lista, un candidato donna e uno uomo. A Campobasso, città che supera i 15.000 votanti, è possibile la coda del ballottaggio. Nel caso nessuno dei cinque candidati, sindaco dovesse ottenere la metà più uno dei voti. In questo caso si voterà tra i due candidati più votati domenica 8 giugno.